ok ragazzi mi ero accorto di aver iniziato la puntata ma non avevo neanche acceso il microfono benissimo benvenuti in questa puntata natalizia di come fare soldi con il marketing ragazzi in questo punto doveva partire la sigla ma non ho avuto nessuna voglia di farla quindi facciamo finta che sia partita la sigla adesso bene parliamo di marketing e parliamo di natale probabilmente questo video avrei dovuto farlo prima quindi aver fatto il video prima di natale significava prepararvi eccetera eccetera creare hype sul sul natale oggi è il 26 mentre sto registrando questo video quindi non ha assolutamente senso fare un video sul natale per caricarvi natale ma comunque possiamo parlare di natale il natale è una festa consumistica quindi in realtà per noi marketer spietati del web è l'occasione d'oro per fare grana io nello specifico mi sono occupato spesso di lavorare con i commercianti quindi con le persone che hanno un negozio per creare eventi di natale ci ho fatto anche dei corsi dei corsi dal vivo su questo argomento però però se dovessi scegliere dove puntare oggi per fare soldi nel natale non punterei molto al commercio dei regali ovvero a persone che devono fare regali ad altre persone perché questo sì è un business enorme probabilmente quello con il più alto tasso di spesa inerente diciamo a questo tipo di evento quindi il natale quindi la maggior parte dei soldi vengono spesi per fare regali ad altre persone questo è vero però io non punterei a questo immaginati che le persone devono fare più regali ma devono essere regali indicizzati per la persona targetizzati scelti per la persona a destinazione quindi se hai cinque amici non saranno difficilmente saranno cinque regali uguali ma tu cercherai di fare cinque regali più personalizzati in base a quello ai gusti le preferenze della persona che riceverà il dono quindi in realtà è difficile creare un e-commerce una situazione in cui tu trovi regali per tutti ma le persone andranno a comprare nel posto specifico per fare un regalo specifico con l'avvento dei grossi e-commerce non andrei a fare questo anche perché vado su amazon è già quello il posto dove farlo qualche anno fa avevo creato un format un business dove tu potevi fare regali online non regali aziendali e un e-commerce che non avevo mai non è andato bene non è mai esploso come business perché perché non ci ho mai puntato abbastanza però l'idea era molto semplice trovi dei regali per fare regali aziendali tu non devi sbatterti noi ci pensiamo a tutto tu ci mandi anche bigliettino da visita facciamo i pacchetti ma andiamo ti facciamo la fattura tu scarichi punto fine questa era l'idea però era troppo espansiva comunque poi i regali aziendali si riducono a quattro cose insomma non era un business a cui ho puntato molto e non è una cosa che mai esplosa però ci ho pensato nella vita oggi parliamo chiaramente se dovessi fare un business per fare soldi con il natale lo farei con le persone che vogliono ricreare l'atmosfera natalizia che tipo di target e sono le persone che hanno una marcord per i tempi passati vogliono ricreare quell'atmosfera di famiglia che c'era una volta quindi quei natali da bambino e sono le persone che cominciano aspettare natale tanto tempo prima che fremano quelle sarebbe il target giusto da andare a colpire qui andrei a vendere tutto quello che ricrea l'atmosfera natalizia lì secondo me questa è questa nicchia è buona da esplorare una ottima nicchia anche a livello di numeri statistici su shopify se vai a vedertelo e se hai gli strumenti se hai tools vai a guardare un attimino come funziona se non hai tools è perché non hai ancora fatto il mio corso big idea il corso big idea super marchettone ragazzi è il corso che ti insegna a scovare desideri di mercato e parleremo anche di questa cosa chiuso il marchettone e parliamo ancora di target natalizio il target natalizio che io andrei a ricercare meglio è appunto queste persone che vogliono ricreare l'atmosfera natalizia quindi andrei a vendergli tutto quello che crea atmosfera natalizia dall'albero di natale gli addobbi eccetera eccetera come guide su come creare una perfetta situazione natalizia pranzi cena eccetera eccetera questo sarebbe ragazzi da puntare perché c'è un sacco di gente guardate è una questione di sensibilità non è che te lo dico solo perché ho fatto una ricerca numerica ma guarda quante persone aspettano il natale e che sono queste persone sono semplicemente persone che vogliono ricreare quell'atmosfera che avevano da bambini quindi il grande marketer esperto cosa fa annusa il profumo dei soldi su questa cosa e ci piazza dei prodotti sotto vassoio d'argento prego signori servitevi pure fatemi guadagnare questa puntata natalizia volevo parlare più che altro di questa differenza ovvero tutti pensano che devo lavorare sul natale vai a lavorare sul natale quindi sui regali di natale ma in realtà il vero business secondo me più di nicchia redditizio è quello del ricreare la situazione natalizia quindi andare a colpire il target delle persone che vogliono ricreare quell'ambiente vogliono quell'atmosfera perché l'atmosfera natalizia è un po magica e per certe persone è proprio una sensazione che vogliono assaporarsi in quei giorni quindi aspettano tutto l'anno per ricreare la situazione del natale poi qui in italia siamo avvantaggiati perché comunque fa un po freddo tanti posti c'è anche la neve quindi ricrea appunto quella situazione perfetta quindi perché non sfruttarla pensa quindi come poter fare quindi hai tutte le possibilità di sto mondo che ti si aprono puoi aprirti il tuo business online il tuo e-commerce e vendere prodotti per ricreare l'atmosfera natalizia e specializzarti in questo chiaramente non è un evergreen non dura tutto l'anno ma è un business stagionale se tu hai fatto i miei corsi sai che io ti sconsiglio i business stagionali ma ti sconsiglio di campare solo di business stagionali perché comunque a un certo punto ti si interrompe hai un arco di tempo vuoto dove non guadagni e quindi sommandolo nell'anno potreste potrebbe essere che non sia così redditizio però questa perché non sfruttare questo business potreste avere un business parallelo quindi come ti dicevo il tuo e-commerce con i tuoi prodotti oppure potresti fare una guida se segui i miei video online i miei tutorial online ti spiego bene come si fanno le guide da piazzare su un desiderio di mercato il desiderio di mercato che ti sto dicendo oggi di stupito parlando oggi è ricreare l'atmosfera natalizia è molto forte ci si possono fare bei soldi dietro e si può creare un bellissimo engagement cioè perché non lavorarlo poi puoi prendere un arco di tempo e lavorarti il natale chiaramente devi partire almeno almeno a novembre a inizio novembre non puoi farlo dopo e sai già che tutto finisce la settimana di natale la settimana di natale non è una buona settimana per vendere per quanto ci siano le persone che vanno a comprare i regali dell'ultimo minuto però in generale per la vendita non va bene devi sempre immedesimare devi sempre immedesimarti nel target cosa fa il target in quello in quell'arco specifico di tempo si è rotta il cazzo di lavorare si è rotta il cazzo di stare insieme ai colleghi insomma se vuole vuole uscire da quella situazione e vuole entrare nel suo cammino natalizio quindi con in quell'atmosfera di casa magari se tu vendi corsi accademici corsi di formazione eccetera eccetera mi capita a me quella settimana vedrai un crollo sì c'è una nicchia di ossiduri che dice ok nell'arco delle vacanze natalizie voglio studiare perché ho più tempo ma sono pochi difatti se ricevi la mia newsletter se non la ricevi vai su marcodoria.com ho mandato un'offerta forse era il 22 il 23 dicembre dicendo ragazzi mi metto un corso in offerta che era il corso instagram se volete studiarvelo nelle vacanze è il momento migliore ho fatto delle belle vendite no però sono delle nicchie di persone di cazzo duro che vogliono continuare a studiare ma in generale negli altri miei business che vendono corsi accademici non è una buona settimana per vendere infatti si sa che crollano i click crollano le richieste di informazioni ma è una cosa normale si aspetta poi la leva dei vediamo se lo indovini cavoli buoni propositi dai a inizio anno ci sono i buoni propositi e lì cium si impenna di nuovo un altro tipo di target bellissimo ragazzi volevo fare questo video su questo nuovo set che ho crea ricreato per vedere se vi piace non sono un tipo che ama molto dire condividi clicca lasciami un messaggio in realtà non me ne frega un cazzo però l'unica cosa che mi piacerebbe sapere e se hai qualche domanda in merito oppure se vuoi se oppure se vuoi che io parli di un argomento specifico quindi hai qualche curiosità dubbio ma questo mi interessa anche a livello statistico per capire di cosa dovrei parlarvi in realtà quello che devo fare però io lo so ed è salutarvi in questo momento ciao ragazzi ci vediamo alla prossima da marco doria il marketer più scorretto della rete ok